Gli ultimi anni di Can Yaman sono stati particolarmente intensi e ricchi di soddisfazioni. Da quando si è trasferito a Roma, l'attore turco ha preso parte a numerose produzioni di successo e ora sta approfittando di un periodo di relax tra serate in discoteca e momenti di riposo prima di partire per il tour mondiale della serie El Turco. Tuttavia, sembra che i suoi impegni professionali possano compromettere il suo ritorno nei panni di Francesco Demir nella terza stagione di Viola come Il Mare. Ma sarà davvero così o si tratta di una voce infondata? Scopriamolo insieme. Can Yaman tra relax e nuovi progetti. Dopo l'enorme successo ottenuto grazie alle sue soppopera, Can Yaman ha deciso di trasferirsi a Roma, dove la sua carriera ha preso una piega decisamente positiva. L'attore è infatti protagonista del remake internazionale di Sandokan. in cui interpreta La tigre della Malesia. La serie, che debutterà nell'autunno del 2025 su Rai 1, è stata una delle principali ragioni che lo hanno spinto a lasciare la Turchia, nonostante le riprese siano state più volte posticipate. Inoltre, Yaman è impegnato anche nel ruolo del condottiero ottomano Balabanaga in Uel Turco, una serie che sarà disponibile a partire da febbraio 2025 e per la quale si preparerà a un tour mondiale che lo porterà nei principali paesi dove è già molto amato. Negli ultimi giorni, Can Yaman ha deciso di concedersi un po' di relax nella capitale, dove si sta divertendo e ricaricando le energie. I social sono stati invasi dai video delle sue serate in discoteca, un'attività che l'attore turco ama particolarmente, tra musica coinvolgente e cocktail gustosi da sorseggiare in buona compagnia. È davvero piacevole vedere Yaman così felice e sereno, soprattutto dopo un periodo intenso di impegni che lo hanno messo alla prova sia fisicamente che mentalmente, tra diete severe e ritmi di lavoro frenetici. Tuttavia, proprio nelle ultime ore, è emersa una notizia che ha suscitato qualche perplessità tra i suoi fan. Si vocifera infatti che Can Yaman non parteciperà alla terza stagione di Viola come il mare, la fiction che gli ha regalato fama internazionale. Le voci sostengono che l'attore avrebbe deciso di non tornare nei panni dell'ispettore capo Francesco Demir. Ma la domanda è, è davvero una notizia attendibile o solo una fake news? Mentre si gode il suo tempo libero a Roma, insieme agli amici e per festeggiare il recente compleanno dei suoi 35 anni, Can Yaman è finito nuovamente sotto i riflettori. Le indiscrezioni parlano di un possibile rifiuto da parte dell'attore di tornare a lavorare alla serie, prevista per il 2025, a causa dei suoi impegni già presi con il tour mondiale di El Turco e la promozione di Sandokan. Ma è davvero così? La notizia ha scatenato la prensione tra i fan, che sono molto legati al personaggio di Demir, ma in realtà non c'è nulla di vero. I produttori hanno smentito ogni voce di addio e hanno confermato il ritorno di tutto il cast per la terza stagione. Can Yaman non ha mai parlato di un'eventuale separazione da Viola come il mare, un progetto che gli sta particolarmente a cuore e che ora vede il suo personaggio, Demir, sempre più ricco di sfumature e profondità. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti